Aperol Spritz in caraffa Mettiamo una pallettata di ghiaccio e una bottiglia di spumante di alta qualità direttamente dal Veneto Poi metà bottiglia di Aperol Le dosi non sono a sentimento perché con metà bottiglia di Aperol fai 8 Spritz e con una bottiglia intera di spumante fai sempre 8 Spritz Quando è in caraffa la soda non ci va Come decorazione qualche fettina di arancia